Buongiorno a tutti, sono Federica Vini e Tagliati, io lavoro all'università, sono professore e sanità pubblica, prima di passare ad Amplardo che è il grosso del mio intervento, quindi entriamo in realtà nei ragionamenti su uno specifico intervento, volevo fare un pezzettino iniziale, però non mi voglio neanche ripetere rispetto a quello che è stato detto, però volevo ribadire che le diseguaglianze nella salute sono un fenomeno molto complesso che si genera ad ogni passo, quindi infatti questa prima slide un po' pericolosa era meccanismi di generazione delle diseguaglianze nella salute in prevenzione primaria, che è una cosa molto importante per me, che voi pensiate che quando fate interventi voi avete una forbice in mano e questa immagine della forbice secondo me è molto forte anche per chi è seduto alla scrivania e sta prendendo decisioni, perché nessun intervento sarà mai, nessun intervento è neutro dal punto di vista delle diseguaglianze e quindi a seconda di come tenete la forbice, quanto meno se l'intervento è neutro voi riuscite a spostare, migliorando la salute della vostra popolazione, la forbice chiusa, la tirate su o giù, ma in realtà se la maggior parte degli interventi non sono neutri e quindi voi avete in mano una forbice che sta a voi in realtà allargare o restringere, quindi è vero che bisogna fare strategie complesse ma un piccolo contributo nel restringimento e allargamento della forbice lo diamo anche noi singolarmente con i nostri singoli interventi e con le decisioni che prendiamo. ovviamente le diseguaglianze nella salute si generano in ogni passo, quindi sulla storia naturale della malattia si generano a partire dai fattori di rischio, quindi nella parte libera da malattia, nella parte in malattia e nella parte in malattia verso gli esiti e i fattori che interagiscono e quindi che aumentano o riducono la forbice sono di diversi aspetti ma anche la prevenzione e la cura che io ho messo qua, tutte le azioni di prevenzione e le azioni di cura hanno anche loro un contributo nella generazione delle diseguaglianze. se doveste pensare quali interventi secondo voi, quali trattamenti o interventi sono neutri dal punto di vista dell'efficacia, qualcosa c'è o qualche sfumatura, perché i farmaci sono neutri, la terapia farmacologica si è presa correttamente, però qui c'è già una variabile che non la rende più neutra, perché quella variabile lì del soggetto, allora se era in fondo per flebo ed è coricato nel suo letto d'ospedale, però già se sto somministrando una terapia o un antideventico orale poi la sua efficacia dipende dal fatto che il soggetto me la prenda correttamente, quindi c'è una variabile e quindi c'è un'azione dell'operatore in quell'azione, cioè anche nella somministrazione o nella famosa educazione alla terapia. L'educazione alla terapia va graduata a seconda di chi è in davanti, quindi in realtà anche il singolo operatore e la sua attività quotidiana ha la forbice in mano. Allora, sugli interventi di prevenzione primaria, è facile dividerli in universali, interventi di selettivi indicati e sul ragionamento rispetto alle diseguaglianze questo ci facilita a dire che è difficile che gli interventi selettivi e quelli indicati, che quindi agiscono su sottopopolazioni, hanno come target sottopopolazioni, che sono già sottopopolazioni o a rischio oppure francamente avanzate nel comportamento a rischio, queste due sottopopolazioni, se noi le rendiamo destinatari ai nostri interventi, nello spettro del comportamento a rischio e degli esiti di salute avremo una riduzione delle diseguaglianze, perché ci stiamo focalizzando sulla popolazione che produce maggior carico di malattia e quindi abbassiamo gli esiti su quella, quindi riduciamo le diseguaglianze, anche se non agiamo sul resto della popolazione, quindi se ci focalizziamo su quelli, gli interventi sono selettivi e non generano diseguaglianze, ma piuttosto la riducono. Sia gli interventi selettivi, ecco possono ridurre le diseguaglianze, ecco dovrebbero essere associati, questi interventi selettivi sono molto importanti per essere associati agli interventi universali, perché se tu usi interventi selettivi sulle popolazioni a rischio e gli interventi universali in generale stai affrontando meglio un problema sul carico più grosso del problema e però stai anche utilizzando gli interventi universali sul resto della popolazione, quindi a mio carico i selettivi andrebbero usati nell'universalismo proporzionale, cioè per essere un po' più spinti nell'azione su chi è più vulnerabile e ne ha più bisogno. Ecco, l'intervento della promozione della salute, questa diapositiva fa un po' stridere, fa un po' paura, però se voi ci pensate, allora gli interventi, io tendo a promozione della salute, quindi un intervento che promuove i fattori salutari, non sta facendo l'altro pezzo, ma se noi ci focalizziamo sulla promozione dei fattori salutari, cioè dell'esaltazione dei comportamenti protettivi, che può essere l'attività fisica, l'usile da corretta... Allora, però, quando noi agiamo con interventi universali di promozione della salute, a pensarci è abbastanza facile che aumentino le diseguaglianze, perché è quasi certo, a mio parere è quasi certo, è anche logico da dire, è anche intuitivo, che risponda meglio chi ha meno bisogno, perché è più disposto a, se tu offri interventi di facilitazione per l'attività fisica e la popolazione più avvantaggiata li usa di sicuro, quasi comunque li userai in maggior proporzione degli svantaggiati, a meno che tu faccia un'azione... quindi è abbastanza facile se l'attività di promozione della salute, diciamo, resta in superficie, che la popolazione risponda in modo diverso e quindi finiscono per essere esaltate le diseguaglianze invece che ridotte. Questo è una cosa che mi ha sempre tanto colpito rispetto alla forbice, perché se io faccio un intervento che vuole essere universale, ma poi mi rispondono solo gli avvantaggiati, e io li beneficio, il beneficio loro e gli altri stanno fermi, gli altri stanno fermi io comunque rispondono di meno e io allargo la forbice. Quindi anche nella... cioè dobbiamo saperlo che abbiamo quello in mano, a diversi livelli dell'operatore, ma non dobbiamo sapere che la forbice ce l'abbiamo in mano, quindi qualunque cosa facciamo e che solo strategie a largo spettro riusciranno a ridurre questo problema. Ecco, gli interventi preventivi universali, ecco, questo... quindi da un lato potrebbero, da un lato proteggere ulteriormente i soggetti già protetti, oppure non avere efficacia su chi ne ha realmente bisogno. E però c'è, ecco, qua c'è un meccanismo di selezione che è quello che già, diciamo, dicevate voi prima con la mappa, se io alla fine in realtà agisco, cioè seleziono la mia popolazione, oppure la mia popolazione si autoseleziona, no? E quindi sono le scuole che chiedono a me un intervento e le scuole avvantaggiate che chiedono a me di far cose, io rispondo. E però se io sono in scarso di risorse, mettiamo così, io rispondo alla richiesta, andrò ad agire su un ambito su cui, ecco, poi il punto interrogativo vediamo a Vlad, non so bene cosa sto facendo, perché poi rispondo a una richiesta e abbandono magari perché non ho risorse, no? Se faccio quello su questi che me l'hanno chiesto, non riesco ad essere io proattivo, come dice Simoletta, nell'andare a cercarmi invece altri che interesserebbero a me. Allora vado a finire che adesso vediamo con la planta, non so neanche più cosa sto facendo.